Tutti nello sport, l'UISP si presenta, questo è il titolo dell'iniziativa pubblica che si è tenuta a Roma presso l'hotel Quirinale. Mercoledì 15 dicembre, l'UISP si presenta appunto e anticipa scadenze, progetti e appuntamenti del prossimo anno. Alcuni numeri, 1.223.000 iscritti che ne fanno l'ente di promozione sportiva più grande del nostro paese. E ancora 17.514 società sportive di cui 1.000 circoli, presenza sul territorio articolata con 142 comitati provinciali e cittadini e 18 comitati regionali. E poi ancora attività sportiva suddivisa in 29 leghe, aree e coordinamenti. Sono oltre 4.600 le manifestazioni sportive che verranno organizzate nel 2011 in ogni angolo d'Italia e 10.000 le partite di calcio organizzate ad ogni livello nel weekend. All'incontro hanno partecipato sia il presidente della UISP, Filippo Fossati, sia il presidente del CONI, Gianni Petrucci. Mostriamo il nostro volto, o meglio i nostri molteplici volti, ha detto Fossati. L'UISP è presidio sul territorio per favorire relazioni, salute e impegno sociale. Per i diritti di tutti, ha proseguito il presidente nazionale UISP. Presentiamo i nostri dirigenti e i nostri educatori, gente che ogni giorno si espone e ci mette tutta la propria passione e credibilità. E proprio i volti di tutti, l'UISP ha mostrato in apertura della manifestazione. È intervenuto Ousein, senegalese, residente a Genova, e ha dato il buongiorno. Sono in Italia da 20 anni e ricordo che proprio attraverso lo sport per tutti cominciai a frequentare una palestra e a farmi i primi amici. Insieme a lui altri buongiorno, quello di Maurizio, ad esempio, di Ragusa, subacqueo, che ha messo la sua abilità sportiva al servizio della protezione civile come volontario, o quello di Sara Sgarzi, azzurra di nuoto sincronizzato, nata nell'UISP Bologna. Già, perché sport per tutti significa tutto lo sport, lo sport per divertirsi, ma anche lo sport per salire nel podio più alto. All'iniziativa hanno preso parte presidenti di federazioni sportive e rappresentanti di istituzioni pubbliche. Grazie. Grazie.